amici e amiche di videogiochi bentornati siamo arrivati al 9 dicembre mi scuso se la mia voce sarà un po più bassa ma giustamente è inverno sono arrivati i malanni di stagione lo so chi chi dice che ama l'inverno io non lo capisco io lo odio proprio perché si sta continuamente male ma la diretta deve andare avanti show must go on quindi anche se sono un po malaticcio a casa andiamo avanti con i nostri video oggi ho intenzione di fare tornare nuovamente nel passato in un remoto passato nei primi picchiaduro scorrimento usciti e di fare una comparativa tanto tempo quando facevamo una comparativa ma interessante perché questo gioco in giappone uscì in un modo mentre in america uscì con un altro titolo e completamente diverso questo perché eravamo in un'epoca in cui si era convinti che la cultura giapponese non fosse abbastanza cool per il pubblico americano oggi il manga anime la cultura giapponese super di moda cosplay eccetera una volta era una roba molto di nicchia quasi da sfigatini quindi spesso e volentieri i giochi giochi venivano presi dalle case americane giochi giapponesi venivano completamente stravolti per andare incontro a quelli che erano i gusti degli americani e questo è uno dei casi perché abbiamo in giappone un gioco della serie kunio kun che in america diventa relegate vediamo adesso dopo la sigla e parliamo di questi due di questo gioco trasformato in america eccoci qua bene siamo l'anno di grazia 1986 grazie a questo gioco ma soprattutto a un altro gioco cioè double dragon il picchio duro scorrimento avranno una faranno un balzo in avanti questo si chiama questo gioco è neketsu koa kunio kun io spero i amici ma delle lingue giapponesi se mi seguo qualcuno non mi picchino per la mia pronuncia è il primo gioco della serie di questa casa che si chiama teknos japan ormai fallita da qualche anno da più di qualche anno il protagonista è questo kunio kun col nome preso dal capo di teknos kunio il titolo può tradursi come kunio il duro dal sangue caldo è un tipico gioco ambientato nel teppismo delle scuole giapponesi perché ci dicono moltissime scene giapponesi anime e moltissime roba che abbiamo visto in questi ultimi anni c'è questa grande rivalità tra le scuole giapponesi con le varie bande che si picchiano e lottano fra loro e il protagonista infatti di questa saga è un ragazzo uno studente di questa scuola kunio che in questo gioco dovrebbe indicare uno dei suoi amici che è stato brutalmente picchiato da da scuole rivali questo è il primo gioco della serie con kunio che voi probabilmente ricorderete per altri giochi sportivi perché poi diventerà la mascotte di teknos e verrà utilizzato in un sacco di giochi e soprattutto appunto sportivi cioè del baseball, calcio ma soprattutto pari avvenenata cioè dodgeball, lo avete presente fin con bestiller ci sono un sacco di giochi di dodgeball con protagonista kunio moltissimi la maggior parte di questi giochi arriveranno da noi ma con la trama cambiata perché spesso e volentieri gli americani trovavano che questa storia di bande giovanili queste scuole giapponesi le divise eccetera non fossero culturalmente non sarebbero state apprezzate culturalmente dal pubblico americano e quindi spesso prendevano questi giochi cambiavano i nomi del protagonista cambiavano un po' la grafica nel caso di questo gioco la cambiano tantissimo e la versione americana non ha spesso non ha kunio kun ma Alex Gino Pino cioè diventa un altro gioco basato sul motore di questi spesso e volentieri arrivavano da noi convertiti da Taito questo gioco in america diventerà Renegade e cambierà completamente trama e anche grafica cosa ha di interessante questo gioco? è un picchiaduro a scorrimento che presenta uno scrolling orizzontale ma in realtà anche leggermente verticale ci sono dei un sacco di mosse prese e varie varie caratterizzato da una difficoltà orrenda nel senso è invecchiato veramente male perché io non riesco neanche superare il primo livello ha la possibilità di uccidere i nemici istantaneamente buttandoli fuori dal bordo se andate avanti 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 e scorrendo a un certo punto finisce la piattaforma e potete buttarli giù perché qui è tipo la stazione dei treni potete buttare i nemici dai minari ma li possono buttare giù anche voi la versione della sala giochi è difficilissima perché ha una vita nei regolazioni normali due vite regolate facili non c'è possibilità di continuare quindi è un gioco estremamente punitivo inoltre ha una caratteristica che per il più può essere innovativa in realtà io ho sempre odiato cioè proprio mi flippa il cervello solitamente voi andate a destra a sinistra con il joystick e poi date i pugni in una direzione dall'altra c'è sempre il tasto di pugno a seconda di dove siete rivolte date il pugno a destra a sinistra qui no! qui c'è un tasto per dare i pugni a destra e un tasto per dare i pugni a sinistra io lo so voi a me sta cosa manda fuori non riesco a farlo cioè un tasto ricordarmi che quando mi giro nell'altra parte devo prendere un altro tasto per dare il pugno a me sinceramente non ce la faccio sono vecchio questo gioco è stato famoso ma poi nella sua diciamo nella storia è uscito subito dopo Double Dragon e Double Dragon ha fatto la storia di picchiaduro molto più di questo ma è comunque interessante vederlo per tutti questi discorsi un po' per il suo particolare sistema di controllo un po' per il fatto che ha creato questo personaggio simbolo che avrà tantissimi tantissimi giochi e sono molto carini quelli di dodgeball perché sono molto umoristici ma cominciamo a fare una partita per capire la difficoltà o scena di questo gioco Kuneo Kun versione giapponese vedete qui i nemici picchiano l'amico di Kuneo e Kuneo corre a in alto potete vedere il boss finale del livello che viene fuori quando c'è questo tasto di scelto anche e vedete io adesso devo andare di qua e devo ricordarmi che devo usare questo altro pugno questo tanto tasto per dare il pugno a destra e a sinistra c'è il difficilissimo gli amici fanno un maglissimo gli americani hanno pensato che questa storia di teppismo giapponese non andasse bene se vado al bordo scalpo vedete che qui c'è il bordo schermo e si possono lanciare i nemici fuori dal vedete com'è di una cattiveria se lo volete provare per ridere non lo consiglio è un gioco di una difficoltà un po' scena o scena aveva comunque anche parlato insomma aveva il suo il suo perché vedete ho perso la vita e mi fa ricominciare da i con tutti cioè dovete riuscire a fare in modo di non avere mai più di uno alla volta che da un certo punto di vista è anche realistico però vedete si può buttare giù i nemici mi dimentico di cambiare tasto non è gestibile non è gestibile un gioco veramente troppo punitivo bene perso già la vita e vedete non potete continuare cioè in nessun modo anche mettendo altri gettoni non potete continuare diciamo Kunio Kunio è importante per l'immaginario perché ha questo tipo i personaggi cioè Kunio è il tipico tempista giapponese degli anni 80 cioè con quella cresta tipo Elvis con quelle cose guardate ad esempio vi mando un'immagine di un anime di quegli anni e questo è vediamo se trovo l'immagine ecco questo è ad esempio Kuwabara Kuwabara è uno dei coprotagonisti di Yu degli Spetri un anime molto carino di Togashi come potete vedere è praticamente uguale a Kunio perché i tempisti giapponesi erano fatti così adesso passiamo alla versione americana di questo gioco che si chiama Renegade è uscita allo stesso anno però come vi ho detto hanno pensato che in America non avrebbe funzionato e l'hanno rimaneggiata per farla digerire a un pubblico americano operazione abbastanza penosa secondo me ma interessante da capire com'era la cultura di quegli anni avvia con Renegade bene Renegade vedete è cambiata completamente la schermo di titolo aspettate che basso un po' il volume perché sennò mi hanno detto che il volume del gioco è troppo alto quindi come potete vedere la grafica è stata completamente rimaneggiata non c'è più la stazione del treni ma c'è una metropolitana americana non c'è nessuno è più vestito da studente giapponese ma sono tutti vestiti da teppisti e la trama è stata completamente cambiata perché mentre in Kunio Kun l'amico di Kunio viene picchiato dai cattivi delle scuole rivali e voi dovete picchiarli alla fine del gioco quando lo avete vendicato c'è i vari studenti che vi danno che vi danno la mano e si congratulano per la difesa dell'onore della scuola e in questo gioco il protagonista è questo Mr. K che viene chiamato Wayne mi pare nelle conversioni per Nintendo eccetera eccetera diviene rapita la fidanzata da una banda rivale e alla fine del gioco c'è la classica scena da film americano dove lasciarvi la ragazza e la ragazza ti bacia e finisce così il gioco è sostanzialmente identico cambia solo la grafica e la voce che non sono più campionature giapponesi ma sono campionature americane è molto buffo ma come potete vedere il gioco è sostanzialmente identico ma è un po' più identico la difficoltà oscena è sempre quella il metodo di controllo insopportabile potete fare questa cagata che ho fatto io adesso cioè di perdere la vita cadendo giù è veramente il gioco di un punitivo ma di un punitivo io vi consiglio piuttosto che questo hanno non regolato ho messo una sola vita io vi consiglio piuttosto che questo è uno dei giochi che anzi ve lo mostrerò in un altro contatto del picchio avvento perchè più avanti uscirà un gioco con protagonista Cugno non vi spoilerò il titolo perchè voglio che sia una sorpresa che avrà degli elementi rpg ed è molto bello è stato fatto anche una mic di recente e quello ve lo mostro me lo riservo per un altro giorno del picchio avvento oggi guardiamo questo che comunque ha delle animazioni carine ecco vedete dopo un po' arriva il boss e il boss picchia picchia e il boss è veramente cattivo della versione giapponese tutti i boss avevano il loro nome proprio perchè erano i vari studenti i capi delle varie scuole qui è semplicemente boss andiamo a risparmio e niente come potete vedere in questo gioco faccio schifo ma è perchè è di una difficoltà come vi ho detto oscenamente oscena quindi l'abbiamo visto per importanza storica sinceramente andate a recuperarvi i giochi successivi o piuttosto quelli di Pagliaverinata che sono molto carini di questo onestamente meglio molto meglio Double Dragon di questo torna bene anche per oggi è andata scusate come ho detto la mia voce nel mio stato un po' confuso in generale ma sono un po' malaticcio ci vediamo domani alla prossima ciao 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 ciao